Siamo ora davanti al Duomo che dopo la pulitura risplende più che mai. Nel Duomo è custodita la corona ferrea usata per secoli per l'incorronazione della re d'Italia. Anche Napoleone fu incoronato con la corona ferrea. Anzi si incorrono da solo di cento. Dio me la tata, guai a chi me la tocca. Avete presente il tetto, la calina delle uofatorre? Beh, nel museo del Duomo è ritornata e pure la calina ce l'ho fatta. Ormai non ha più segreti la cultura. Giurra! Grazie. 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 Grazie.